Se per l'edilizia scolastica Sulmona resta esclusa, per il sociale arrivano i fondi ministeriali, un appartamento sarà messo a disposizione per accogliere disabili nella zona di Via De Gasperi, a Sulmona, altri alloggi anche a Prato Lapelini e a Casteldisangro, finanziati con fondi PNRR. Il progetto a vantaggio di persone con disabilità è stato ammesso a finanziamento PNRR per la somma di 715.000 euro in partenariato tra l'ambito sociale di Sulmona, che comprende anche Prato Lapelini e l'ambito sociale di Casteldisangro e famoso ECAD. Il Comune di Sulmona si è giudicato altri due importanti progetti, il primo a favore del sostegno delle capacità genitoriali, la prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, così da offrire strumenti adeguati a salvaguardia delle famiglie con particolari disagi, il secondo invece a favore del rafforzamento dei servizi sociali e la prevenzione del fenomeno del burnout tra gli operatori sociali per prevenire sindrome da stress di lavoro per quanti operano in campo sociale. I due progetti codranno di un finanziamento complessivo di 420.000 euro, i tre progetti insieme fruttano quindi oltre un milione di euro.